ciao a tutti sono natrone bentornati sul mio canale oggi volevo cominciare con voi una nuova campagna una nuova partita ad un gioco di ruolo un gioco di ruolo cartaceo da giocare ovviamente che giocherò anzi in solitario e siccome appunto stavo cercando un regolamento universale almeno uno unico da usare fantasy ce ne sono tanti no appunto voi sapete che ce ne sono tanti no di regolamenti in primis Dungeons and Dragons ma c'è anche Shadow of the Demon Lord Dungeon World ma alla fine io ho deciso di optare per uno soltanto e il regolamento che ho recuperato che ho preso che devo ancora finire un pochino di leggere ma più che altro la metà della metà della gialletta devo soltanto leggere quelle regole base no per il movimento il combattimento queste cose qua veramente veramente semplici e sto parlando di old school essentials portato in italia dalla need games credo creato ed editato dalla necrotic gnome che cos'è old school essentials lo chiamerò OSI appunto per diminuzione è un gioco di ruolo old school cosa vuol dire old school? old school un po' come Kern no? chi l'ha visto? i giochi old school sono quei giochi che hanno poche regole non hanno regole che ricoprono un po' tutto e hanno un alto tasso di mortalità e proprio per questo motivo i personaggi vengono creati così veramente in pochissimo tempo perché sinceramente spendere tempo spendere un'ora di tempo per creare un personaggio perfetto in ogni dettaglio e poi dopo magari 10 15 minuti mi muore male mi girano anche un po' le scatole no? ecco quindi i giochi old school prediligono appunto la rapidità di creazione del personaggio a causa dell'alto tasso di mortalità nei loro giochi altra cosa importante per questa sessione userò qua io il computer per scrivere tutto quanto non riprenderò più con il telefono cosa un po' mi dispiace più che altro perché non vedete non vedrete i tiri no? di di dado ma quello perché appunto essendo che io gioco con regolamenti in inglese se c'è una parola o un aggettivo che io non lo so io devo andare a cercare il pc lo tengo spinto quando registro appunto qua col telefono tipo quando ho registrato kern perché l'avento la fa rumore quindi così magari vi può dar fastidio però ogni volta devo interrompere il video andare su internet cercando di non andare a muovere la telecamera che appunto in quella posizione lì è insomma un po' è un po' fastidioso e quindi preferisco farlo qua al computer anche perché ho già fatto una tabella che sarà appunto essenziale che si trova in mythic ma anche perché ho trovato per os e una scheda di personaggio editabile ma anche per me è molto più semplice andare a scrivere le cose importanti le note dei nostri viaggi e tutto quanto mi dispiace solo che magari non vedrete il lancio dei dadi però ragazzi questo quell'altro però magari durante il combattimento potrò magari tornare a riprendere perché no con con il con la con il telefono è perché perché no non è non è una cattiva idea comunque allora io ho già creato il regno il mondo il partito del pianeta il pianeta il regno dove andremo a giocare e il villaggio di partenza del nostro personaggio che adesso vi andrò a far vedere ovviamente l'ho creato con le table fables 2 e ho creato appunto quella roba la e adesso andiamo a vedere insieme allora vediamo se questo lo prende eccoci qua allora pianeta enormi tenete diametro del sole quindi siamo più o meno al 900 mila miglia è veramente un pianeta veramente veramente enorme è composto dall 89 per cento di acqua ed è formato dal man 47 continente 47 continenti e 27 rini quindi noi facciamo parte di uno di questi 27 rini la durata dell'anno del pianeta è media quindi a 474 anni e la durata del giorno è lungo che siamo sulle tra le 25 35 ore quindi più del nostro e c'è una sola luna ok basta si sa solo questo il regno dove appunto noi ci siamo dentro intanto si chiama ulilin è a medie dimensioni quindi 200 mila 280 mila miglia quadrati il terreno primario principale comunque composto dalla tundra con il meteo tipico che prevede neve eventi forti e temperature molto basse quindi è un terreno è un meteo prettamente innevato la razza primaria è mezzelfi la razza primaria mi è un pochino stupito mezzelfi il governo di questo regno è aristocratico l'economia è bilanciata viene esportato principalmente cotone la tendenza militare quindi la forza militare ha tendenza pacifica e quindi sono molto pacifici ma vedete la forza sono molto forti la forza militare molto forte quindi sono pacifici ma molto forti quindi tendono più a ci sta perché comunque mezzelfi sono abbastanza pacifici appunto come 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 razza quindi ci sta l'unità principale di punta sono quelle a distanza ranged la religione principale sono atei l'ateismo quindi non credono in nessuna divinità o altro la qualità della vita è decente le notizie di punta è che il regno si sta riprendendo da una guerra ora io non so quale guerra purtroppo c'è stata possiamo andare a vedere possiamo andare a verificare qua sulle table fables c'è il generatore di guerre ora vabbè qua c'è il generatore di guerre per quel che riguarda però la guerra in atto quindi chi sta attaccando chi sta difendendo l'intensità del conflitto eccetera la durata quanto è durata però comunque possiamo possiamo utilizzarlo per avere qualche informazione di base e ora c'è la storia che cozza un pochino con la qualità della vita perché qua dice che il paese ha vissuto dato è recessione il paese ha vissuto un periodo di declino economico durante il quale e fin qui ci sta perché magari uno dice no si sta riprendendo da una guerra ci sta durante il quale cittadini hanno perso il loro lavoro e buona o buona percentuale della popolazione vive sotto la soglia della povertà ora questo va un pochino a cozzare con la qualità della vita che è decente quindi io tranquillamente cancellerei questa parte e la lascerei in questo modo quindi a causa appunto di questa guerra hanno avuto appunto una un forte declino economico e piano piano appunto si stanno si stanno riprendendo quindi questo è il regno nostro dove siamo noi il regno di Uli Lin di cui ovviamente noi il sovrano non sappiamo nemmeno chi sia se ha anche un sovrano non lo so vedremo penso di sì comunque e adesso vediamo la città di partenza del nostro personaggio allora è la città che si chiama Winter Heights è un borgo, un paesino quindi è molto molto piccolo sarebbe un hamlet in inglese quindi ha una popolazione di 400 abitanti e qualità della vita povera quindi questo magari potrebbe essere uno di quei pochi paesi che è stato colpito più duramente dalla guerra ci sta il tipo di governo è rappresentativo cioè il leader è un funzionario che fa le veci del sovrano del regno ok quindi appunto questo funzionario che comanda e gestisce il abbiamo un pochino perché sono registrando questo video appena terminato quello di okami del cinquantesimo episodio quindi un'ora che parlo insomma c'è un pochino di coso e quindi c'è questo tizio che fa appunto le veci del sovrano nel centro della città c'è un grande bracere comunale questo è appunto credo un grande bracere, un grande falò o una cosa del genere e la storia è un passato criminale purtroppo questo borgo, questo paesino infatti dice al paese alla storia di essere stato il paradiso sicuro per assassini da altri criminali quindi nel passato era un porto sicuro per questo tipo di gente qua quindi non è che ha vissuto in passato chissà quanto bene un po' mi ricorda ad esempio se ha visto la serie di black sails un po' tortuga che era un po' il paese il porto sicuro per i pirati quindi un po' mi ricorda quello quindi nel passato non è che ha visto tempi migliori secondo me e la particolarità è che la città ospita un monastero e un ulcerito gruppo di monache che la cosa buffa è che qua in inglese cos'era la città? allora la città qua era, ora ve lo dico non il dungeon, eccolo qua forse ci siamo no allora città eccoli qua no ah town vediamo un po' dove sono eh eccoli qua town sand cities 77 allora letto qua dell'inglese ora non lo trovo perché non lo so dove è comunque si, comunque c'è un monastero e ci sono appunto delle monache appunto del e questo è il villaggio del nostro protagonista, del nostro personaggio ora io andrei a creare la base del nostro personaggio quindi la creiamo adesso insieme ok allora tanto come è che funziona ose ose molto somente ose funziona in questo modo noi abbiamo 6 caratteristiche principali e per ogni caratteristica tireremo 3d6 ed fuckn andremo insieme il regolamento dice che se ad esempio tutti i valori delle caratteristiche hanno un risultato di 8 o meno sono particolarmente bassi l'arbitro, che sarebbe il Dungeon Master o il narratore può decidere di far scartare quel personaggio e di dichiararlo da 0 perché qual è la particolarità di Ose? Ose è basato sulla scatola rossa e blu di Dungeons & Dragons e quindi parliamo delle prime due edizioni infatti qua non abbiamo nemmeno le razze in Ose non esistono razze, ad esempio esistono le classi di cui due classi sono attualmente nei GDR moderni considerati come razze però non essendoci appunto delle razze, chi se ne frega allora, com'è che funziona la creazione del PG? allora, cominciamo con le caratteristiche allora, le caratteristiche sono 6 io ho qua fatto una scheda che ora vi faccio vedere appunto che è la scheda quella editabile, possiamo dire eccola qua vedete? di Old School Essentials che è del personaggio editabile allora, vediamo intanto il nome e no, il nome è dopo allora, abbiamo le caratteristiche allora, le caratteristiche sono questa forza, queste sono quelle che normalmente ti vanno a ti vanno a, ecco, cosa vanno a influenzare diciamo la forza cioè forza, intelligenza saggezza, destrezza, costituzione e carisma quindi adesso noi, come appunto viene anche detto scherzavo allora, tiriamo le caratteristiche partiamo con forza forza, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 eh, forza un bel 9 non è male ah, ovviamente tirando 3 di 6 il minimo è 3, il massimo è 18, ok? poi, intelligenza intelligenza tanto, 12 intelligenza tanto, 12 poi, saggezza anche con saggezza tantissimo tanto, eh, 13 addirittura destrezza eh, destrezza è un pochino bassino 6, 7, 8 e 9 ok, costituzione appunto che vanno a influire punti ferita 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e carisma carisma un po' bassino, eh 5, 6, 7, 8 però allora, come caratteristica sinceramente mi va ovviamente a soddisfare poi ovviamente in base alle statistiche e alle caratteristiche ovviamente abbiamo dei bonus eh, o dei malus, no? appunto al punteggio abbiamo anche altri tipi di eh di cose di, eh bonus e malus o una volta appunto fatte le varie caratteristiche scegliamo la classe le classi appunto come vi dicevo abbiamo qua delle classi che dovrebbero essere 8 o 9 classi e qua essendo appunto un old school essendo appunto un gioco basato eh sui sui sulla scottola blu e rossa di Dungeons & Dragons quindi parliamo delle prime due edizioni eh di D&D non ci sono le razze alcune razze sono delle classi e questo sapete cos'è che mi ricorda? mi ricorda molto Hero Quest è un gioco della Games Workshop che appunto il giocatore sceglieva quattro classi di quattro classi di personaggio cioè il barbaro il mago il nano e l'elfo dove adesso però il nano e l'elfo sono razze allora comunque le razze sono Chierico cioè le classi scusate Chierico abbiamo l'elfo il guerriero l'alfling il ladro e il mago il nano ok ora alcune di queste classi hanno dei prerequisiti ad esempio l'elfo vuole che l'intelligenza sia minimo nove non ne abbiamo comunque tante abbiamo ben dodici no? l'intelligenza e allora non lo so potrei anche potremmo anche fare sapete cosa un Chierico perché requisito allora prerequisiti del Chierico non ce l'ha nessuno però il requisito primario per il Chierico è la saggezza e noi la saggezza ce l'abbiamo veramente alta potremmo fare questo poi invece il ecco vedete l'elfo ha il requisito primario l'intelligenza e la forza però la forza non ce l'abbiamo tanto alta in guerriero la forza ce l'abbiamo abbastanza bassa l'alfling distrezza e costituzione direi di no facciamo un Chierico dai oddio potendo potremmo anche fare un nano sapete no scusate un mago un nano non credo no infatti vai a fare un bel Chierico una bella via di mezzo che dite un po' un guerriero comunque un po' con ah regolamento poi vuole che è possibile abbassare alcune caratteristiche di due punti per aumentarne un altro ma non ho intenzione di 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 farlo allora dunque quindi abbiamo scelto la classe scegliamo la classe del Chierico quindi qua scriviamo Chierico poi aggiusta le caratteristiche quello appunto che vi dicevo prima che potevo abbassare gli due punti la forza dell'intelligenza della saggezza o la saggezza per aumentare un'altra caratteristica però questa cosa non può scendere sotto il 9 questa diminuzione ma non ho intenzione di farlo bisogna vedere i modificatori delle caratteristiche quindi i modificatori della caratteristica allora intanto abbiamo un abbiamo un forse abbiamo 9 non abbiamo modificatori ok purtroppo non abbiamo modificatori poi l'intelligenza conosciamo la lingua madre nostra allora non credo che c'è lingue siamo intanto siamo alfabetizzati questo è importante e conosciamo la lingua madre che è quella nostra quindi lingua madre va bene ok poi destrezza saggezza che è altissima abbiamo più uno tirisalvezza contro la magia quindi tirisalvezza contro la magia abbiamo abbiamo un più uno ora io qua non so dove me lo vado a dire forse incantesimi non lo so più uno lo vado a mettere qua non credo però è che va così però vabbè per ora lo metto anzi no sapete cosa che c'è lo vado a scrivere qua note tiri salvezza magia più uno ok intiamo un attimo qua come è il tiro salvezza contro la magia curiosità perché devo ancora leggerlo mi sa sta parte io allora ok abbiamo più uno beh allora a questo punto io me lo ricorderò tranquilli quindi contro tutti questi tiri salvezza abbiamo un più meno più uno ok come bonus perché abbiamo la saggezza alta poi abbiamo destrezza 9 non abbiamo nessun bonus niente nemmeno un bonus della classe armatura la costituzione che abbiamo 10 abbiamo un niente non abbiamo nessun malus carisma 8 addirittura abbiamo un malus abbiamo un meno uno alla reazione di png attenzione cosa è importante quindi qua mi segno reazione png che sarebbe personaggi non giocanti meno uno e poi possiamo portare massimo tre seguaci hanno sei di realtà perché essendo appunto un gioco vecchio scuola quando noi andiamo a interpretare delle persone normali persone comuni non dei supereroi dei potentissimi guerrieri come purtroppo è normale farlo nei giochi moderni giochi moderni fantasy ma non solo quindi dove è difficile morire quasi muore tanto quindi è poi consentito ai vari giocatori di avere un tot seguaci di base 4 che è possibile reclutare quindi pagarli tipo mercenari bisogna vedere appunto se poi rimangono le ali e quello sì però comunque c'è questa possibilità quindi numero massimo seguaci ne abbiamo ben tre e la loro realtà seguaci è 6 ok niente questo è diciamo il queste erano le caratteristiche allora abbiamo anche il modificatore dei punti esperienza in base al requisito primario della classe allora abbiamo detto che noi siamo chiari che il requisito primario della classe è la saggizza noi abbiamo 13 e abbiamo un buon più 5% quindi questa è una cosa molto interessante quindi vediamo ah io qua metto per ricordarmelo a livello titolo no combattimento movimento lingua armatura tesoro ingombro ah pix abbiamo un più 5% e me lo segno qua poi ovviamente andremo a segnare ed eccolo qua abbiamo un più 5% perfetto ok una volta appunto aggiunti le caratteristiche dobbiamo annotare appunto i vari modificatori ne abbiamo già segnati annotati risalvezza e le abilità di classe quindi adesso noi andiamo a prendere la classe del schierico e andiamo a vedere nella tabella i vari tiri salvezza ah non abbiamo incantesimi il schierico al primo livello non è incantesimi molto molto importante ricordando che abbiamo un più 1 a tiri salvezza quindi i tiri salvezza sono contro morte e veleno di base abbiamo 11 più 1 12 contro bacchetti 12 più 1 13 p che sarebbe paradisi e pietrificazione anche qua abbiamo 14 più 1 15 soffio 16 più 1 17 il più 1 per il bonus dato dalla saggezza vedete che abbiamo 13 poi abbiamo i che sarebbe incantesimi e verghe ah no fermi 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 c'è già qua guardate non c'è neanche bisogno di segnarlo quindi qua è 11 11 più 1 per il bonus 11 12 metto quello di base 14 16 e 15 ok questi sono i tiri di salvezza che abbiamo contro questa roba qua poi ha dato i tiri per colpire ora questo eh questo è tosto qua abbiamo qua bisogna vedere bisognerebbe vedere qua l'attack 0 no dove l'attack 0 perché allora com'è che funzionano i vecchi giochi i vecchi giochi funzionavano con funzionavano con l'attacco l'attack 0 l'attack 0 sta per 2 hit ora ve lo dico perché c'è l'attack 0 sta per tira per colpire ca 0 ok eccolo qua dove ca vuol dire class armatura praticamente questo anzi ve lo faccio vedere un pochino meglio qua vedete praticamente questo noi il gioco qua può semplicemente essere giocato in due modi o con la cosiddetta che è una regola opzionale class ascendente class armatura ascendente che è quello dei giochi di ruolo moderni fantasy ossia per colpire il bersaglio devi fare 12 o più per colpire il bersaglio vai a vedere il bestiario 15 o più qua no anni fa negli anni 70 80 c'era la class armatura ascendente cosa vuol dire vuol dire che noi si partiva con una attack 0 di 19 che era la base a questo 19 si sottrae si sottraeva la class armatura del bersaglio e il risultato che veniva fuori era il tiro per colpire il tiro che bisognava fare con il dado per colpire il bersaglio ok esempio un orco gufo no un orso gufo ad esempio ha una class armatura di 15 ok vedete ad esempio l'orso gufo qua ci ha ci ha 5 e tra parentesi c'è 14 cosa vuol dire vuol dire che se noi vogliamo giocare con le regole basi del gioco quindi come era anni fa si considera il numero fuori dalla parentesi in questo caso class armatura 5 e come faccio a sapere quanto devo fare per colpire fai 19 meno 5 18 17 16 15 14 14 per colpire il bersaglio se invece non voglio fare appunto questo metodo che è un pochino strano è un pochino magari bisogna un minimo capirlo ma è veramente una cavolata voglio visto magari che sono abituato a giocare a dnd quinta edizione voglio subito sapere quanto devo fare col dado allora si considera il numero tra parentesi quadri class armatura ascendente regola opzionale quindi per colpire l'orso gufo devo fare il numero tra parentesi quindi devo fare 14 più è vero è molto più immediato però secondo me anche meno bello io userò la classe armatura normale quindi quella discendente dove più bassa la classe armatura più difficile colpirla non è il contrario mentre con la classe armatura ascendente quindi quella dei giochi di ruolo moderni è il contrario più alta è la classe armatura più è facile più difficile colpirlo ok la regola vecchia è il contrario questo appunto era per farvi un secondo capire com'era la regola appunto e quale regola ho intenzione di utilizzare io quindi dove è che eravamo rimasti ah i tiri per colpire allora i tiri per colpire dunque i tiri per colpire giustamente ah vi faccio tornare qua alla scheda ah i tiri per colpire qua non c'è però vabbè allora noi partiamo con 19 a livello 1 parte con un attack 0 di 19 ok tra parete se sarebbe 0 quindi vuol dire che ci colpiscono anche con 1 praticamente ok una cosa del genere come bonus perché poi ad esempio vedete già a livello 5 partiamo con un attack 0 di 17 quindi abbiamo un minimo di vantaggio comunque c'è qua vi faccio vedere la matrice che poi comunque c'è anche in fondo per capire come colpire vedete il livello si parte dal livello 0 e in base a quanto è il tiro per colpire con l'armatura si fa il dado comunque poi lo vedrete meglio quando si gioca quindi abbiamo fatto i tiri salvezza abbiamo fatto i punti no i punti ferite no i punti ferita qua bisogna tirare il dado della classe perché ovviamente ogni classe ha un dado da tirare per vedere quante punti ferite abbiamo tipo il chierico ha come dado vita un d6 quindi io per vedere quanto quanta salute ho tiro un d6 eh 3 abbiamo abbiamo qualche bonus o no perché la costituzione purtroppo non abbiamo bonus quindi non abbiamo punti ferita che ora non so dove segnarli abbiamo un po' un po' basso movimento lingua armatura tesoro note no non c'è nulla perfetto no pf poi questo è nostro allora eccoli qua di ferite massimo noi abbiamo 3 abbiamo ok purtroppo abbiamo 0 perché non abbiamo nessun tipo di di modificatore ok e quindi questo l'abbiamo l'abbiamo eh fatto eh ok scegliere allineamento allora l'allineamento era molto semplice anni e anni fa adesso c'è una marea di allineamenti c'è neutrale neutrale legale neutrale caotico caotico malvagio caotico legale caotico una marea qua negli OSR nell'edizione blu e rossa di D&D c'erano semplicemente 3 allineamenti legale anzi ancor meglio legge neutralità e caos punto basta non c'erano cose contro ma io sono un neutrale legale malvagio legale no noi siamo chierici e quindi ci britti che io amo il legale ovviamente siamo chierici che volete poter poter fare che sarebbe bene interpretare ad esempio un chierico potremmo anche farlo poi un'altra volta un chierico però neutrale o malvagio che ha avuto un po' un problema vabbè quelle sono cose che sono particolari hanno altre linguaggi conosciuti perché ovviamente qua abbiamo dei linguaggi perché qua noi possiamo apprendere possiamo imparare delle lingue che magari se incontriamo una creatura che ad esempio mi parla che ne so l'ugnoll o il linguaggio di gargoide noi non lo parliamo o non lo capiamo ora noi come base abbiamo la lingua nostra madre che la lingua madre è data dal la lingua comune quindi che parlano tutti quanti e la lingua del nostro ah no fermi devo andare a vedere nelle caratteristiche della classe i linguaggi sono la classe dell'allineamento quindi noi parliamo la lingua del nostro allineamento quindi di quelli legale e di quella comune stop molto semplicemente quindi lingua madre ma nemmeno lingua madre perché abbiamo lingue allineamento allineamento e comune come il linguaggio stop molto semplicemente vedete è molto semplice fare un personaggio non ci vuole chissà quanto beh ora comunque considerate che ci vuole un pochino perché sto parlando con voi vi faccio degli esempi vi spiego delle cose quindi insomma un pochino ci vuole ora possiamo comprare l'equipaggiamento noi adesso abbiamo partiamo con 3d6 per 10 di monete d'oro partiamo con 11 per 10 di monete d'oro che poi ovviamente qua possiamo anche andarlo tranquillamente a a suddividere monete di platino monete d'oro monete di eh queste monete di rame credo che voglia che voglia dire una cosa ora per non fare errori del cavolo io qua semplicemente quanto è per 100 per 10 monete ok guardate ma non sono bravo io con le divisioni e con le moltiplicazioni questo problema qua 110 monete perfetto e possiamo andare a comprare l'equipaggiamento l'equipaggiamento allora ovviamente alcune classi hanno delle limitazioni perché che riguarda l'equipaggiamento ad esempio il chierico possono portare qualsiasi tipo di armatura compresi gli scudi e le armi purtroppo possono portare qualsiasi arma che non sia affilata quindi chierici non possono usare né spade né coltelli né lame e nemmeno questa roba qua quindi ok allora l'equipaggiamento si divide in attrezzatura da avventuriero come la cosanta l'aglio gli arnici da scasso la lanterna le torce eccetera le armi le armature le munizioni quindi le armi le munizioni le armature e basta molto molto sono due due poche poche tabelline sono queste qua guardate sono questa tabella qua e queste questa no e queste sono le statistiche delle armi e questa qua semplice non ci sono 2000 tabelle allora partiamo con partiamo con intanto l'arma allora noi possiamo scegliere armi quindi non possiamo scegliere né pugnale né pugnale d'argento né spada né spada né spada né spada corta quindi possiamo scegliere lascia no perché sono comunque armi affidate purtroppo ho un bastone una clava una lancia no un martello da guerra volendo ho una mazza allora vediamo un attimo allora vediamo la clava fa un d4 di danni e non è affilata un bastone fa uguale un d4 di danni però ha due mani ed è lenta quindi non possiamo portare uno scudo io vorrei avere uno scudo quindi il bastone è escluso un'ascia che non è affilata attenzione volendo forse possiamo anche portare una spada sapete perché qua non mi dice affilate perché ad esempio tipo eh no quelle non affilate le spade dunque noi dobbiamo prendere armi non affilate quindi dobbiamo prendere dobbiamo scegliere tra bastone clava fionda porto a peggio bellotto è affilata perché non c'è scritto non affilata martello da guerra mazza e basta allora io opterei per allora vediamo il bastone no la clava fa un d4 di danno il martello da guerra fa un d6 di danni così come la mazza ma io tranquillamente metterei il martello da guerra perché no quindi martello da guerra che è bellissimo che fa un d6 di danni ci prendiamo anche uno scudo quindi il martello da guerra costa 5 monete d'oro quindi intanto le vado a diminuire quindi andiamo 105 poi ci prendiamo uno scudo che costa 10 monete quindi andiamo a 95 e ci portiamo uno scudo che ha un più uno di classe armatura poi c'è una corazza allora io prenderei una corazza di maglia costa 40 monete d'oro è vero però ha una classe armatura di 5 quindi insomma non è non è malvagio 55 il problema sapete cos'è che c'è che c'è anche l'ingombro di queste armi il problema è che c'è anche di queste armi e anche l'ingombro quindi mi prenderei scudo prenderei un'armatura una corazza di maglia che ha CA 5 e poi altre cose mi prenderei delle torce che sono 6 in totale quindi prendiamo 6 facciamo torce 6 che ci costano una moneta d'oro quindi andiamo a 54 e una corda perché no corda da 15 metri magari dobbiamo legare qualcuno dobbiamo catturare qualcuno non si sa e la corda costa anche qua una una moneta d'oro almeno qua da quel che ho capito basta proprio veramente in modo molto 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 semplice e questa roba qua fine annota la crassa armatura allora la crassa armatura questo è importante ed il tuo personaggio è determinata da due fattori l'armatura e la distrezza allora la distrezza noi abbiamo 9 quindi non abbiamo bonus però abbiamo quella data dall'equipaggiamento cosa vuol dire vuol dire che noi abbiamo scelto come armatura è una crassa di maglia che ha 5 di classe armatura in più lo scudo che ci dà un bonus di più 1 e soltanto quando noi stiamo utilizzando la classe armatura normale classica i bonus diminuiscono la classe armatura perché sono dei miglioramenti quindi la nostra classe armatura vediamo un po' noi partiamo con 3 la classe armatura noi abbiamo 4 attualmente è tanto comunque 4 ragazzi è tanto ok bene la notte livello ipx quindi partiamo dal livello 1 il titolo sinceramente non so a cosa si riferisce e i punti esperienza dobbiamo partire da 0 credo punti esperienza non credo che abbiamo punti esperienza non esattamente px6 quindi px allora 1500 punti esperienza per salire di livello sono tanti considerate però la cosa bella di questo tipo di giochi ma anche di giochi old school è che normalmente le uniti d'oro che troviamo nel raccogliere i tesori nel dungeon ci danno anche punti esperienza quindi non è il combattimento in sé che ci dà punti esperienza se ce li dà ma ce li dà pochi quelli che veramente ci danno punti esperienza sono i tesori che troviamo all'interno del dungeon e niente adesso dobbiamo anche scegliere un nome per il nostro personaggio e poi abbiamo terminato vediamo intanto se è uomo o donna sono curioso utilizziamo le table fables per vedere se sono uomo o donna siamo un uomo siamo un maschio va bene e vediamo il nome e per il nome dovremo tirare un di 100 tiriamo questo famigerato di 100 64 vediamo siamo orion bello mi piace orion come nome bello orion quindi ragazzi abbiamo appena creato il nostro chierico di livello 1 orion niente tutto qua la creazione del personaggio ve l'ho detto ora togliendo il fatto che ovviamente io vi ho vi ho fatto vedere ovviamente il alcune cose vi ho fatto vedere alcune cose del libro vi ho spiegato alcune cose avete visto che però cioè 3d6 per le caratteristiche vedi un attimo i modificatori che ti danno le cose del regolamento e basta cioè siamo pronti per partire all'avventura tranquillamente ok e basta dovremmo esserci dovremmo essere tutti quanti quanto abbiamo fatto qua di tempo si possiamo dire che possiamo concludere poi ovviamente io ora questo l'andrò poi a caricare penso domani che è lunedì o al massimo mercoledì e poi partiamo prossima settimana con anzi no prossima settimana scusate quella dopo ancora con la nostra prima avventura e andiamo a interpretare il nostro bel personaggio Chierico Orion che parte a livello 1 senza alcuna magia senza alcuni incantesimi che belli è quando un tempo i Chierici partivano senza incantesimi sono curioso di vedere anche se i maghi partono senza senza incantesimi o sono troppo curioso eh sì pensate un po' il mago addirittura per i primi due livelli ah no 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 scusate il mago ce l'ha ce l'ha uno ce l'ha uno uno di livello 1 a livello 2 può impararne un altro ok come non detto mentre il Chierico il Chierico non parte con vedete qua il Chierico non parte con nulla non parte con nessun incantesimo vabbè questa comunque è tutta un'altra storia io comunque vi ringrazio per aver visto questa puntata e noi ci vediamo alla prossima con la prima la prima episodio di questa nuova avventura usando il regolamento di Old School Essentials e ovviamente Mythic seconda edizione ciao